Mi piacere, sono Damiano Boschino, provengo dalla scuola Von Neumann a Torraccia di Roma. Abbiamo creato questo robot che gioca a calcio nella categoria pesanti. Lo abbiamo realizzato in diversi mesi, già comunque composto anche dall'altro anno, già creato dall'altro anno. Già l'altro anno siamo andati ai mondiali in Messico, siamo a Ria di Secondi. Quest'anno, ci siamo ieri qualificati anche per i mondiali di quest'anno, che verranno fatti a Eindhoven. Puntiamo comunque a vincere, è comunque un'esperienza molto creativa e educativa. La robotica a scuola, questa materia particolare, tu come la vedi? Come ti trovi? Secondo me la robotica è una buona iniziativa per creare nuove cose, far conoscere nuove esperienze, e comunque stare sempre insieme con compagni, confrontarsi e conoscere nuove cose. Una cosa che impari solo con la robotica? Beh, a parte essere le ali contro chi ti sta contro, e poi anche un'elettronica che a scuola non c'è. Cioè, ad esempio, come si usano le bussole, come vengono implementate, Arduino, sui motori, su come si creano le shield per i sensori. Sono queste qua le cose che a scuola non si fanno. Grazie a tutti. Tasso nella Marka幸one. Conoscere?]